Fratelli d'Italia è ormai una forza politica stabilmente sopra la media del 20% dei consensi come mai la destra è stata in passato, neppure nei momenti più favorevoli di alleanza nazionale. La sua leader, Giorgia Meloni, è al centro delle attenzioni, dell'interesse e della curiosità dei media, anche per via del suo libro autobiografico. Una leader donna che convince non solo i sostenitori, ma anche molte centrali politiche ed economiche internazionali, seppur di orientamento diverso comunque non affine. Da osservatore psichiatra, questi mi sembrano i suoi tratti fondamentali vincenti dal punto di vista personologico. 1. È sobria, mai sopra le righe, anche quando è aspre e intransigente nelle affermazioni. 2. Mai fa dichiarazioni ad effetto, la sua forza è nell'argomentazione e nella profondità del contenuto. 3. Se non è informata o non conosce bene le vicende o il problema, dice con prudenza e umiltà che non può prendere posizione perché non ha gli elementi sufficienti per valutare. 4. È diffidente e non si lascia prendere da facili entusiasmi o manipolazioni, pensa e riflette a lungo. 5. Ha una struttura familiare molto salda, a cui è legatissima. È la sua comfort zone, solidissima, che io considero indispensabile per un leader politico. 6. La sua crescita esistenziale. C'è quasi uno spartiacque esistenziale tra Giorgia prima e dopo sua figlia Ginevra, in termini di serenità e sicurezza di donna. 7. Sa sopportare la sofferenza in virtù di due indicatori di personalità importantissimi in politica, la tolleranza alla frustrazione, rispetto ai risultati auspicati e magari non arrivati, e la capacità al differimento, cioè a rinviare nel tempo gli obiettivi che non si riescono a raggiungere a breve. 8. È molto esigente, non solo con se stessa, ma anche con gli altri. Sempre curiosa, ironica ed autoironica, anche questi fattori importanti di equilibrio psicologico. 9. La visione, il talento e anche una certa intuizione imprevedibile. Talvolta un suo presunto errore, a distanza, si è rivelato una scelta azzeccatissima quando nessuno poteva prevedere che sarebbe stato così. 10. Giorgia unisce valore, tenacia ed audacia, alla fortuna, che spesso l'assiste, soprattutto quando le cose diventano complicate e non è affatto chiaro come andranno a finire. Tra poco tutta l'artilleria della sinistra sparerà ad alzo o zero su Giorgia Meloni, senza farsi mancare neppure il fuoco amico, e le OPA, ostili. 10. Rossiconi e elatori di tutti i colori daranno il massimo. Ma la strada della coerenza alla lunga darà i suoi risultati, far ritornare l'Italia ed il suo popolo nazione europea e sovrana. Giorgia Meloni ha il profilo giusto.